Ciao a tutti, vuoi eliminare i tuoi conflitti interiori? Perdona i tuoi genitori, non hanno potuto fare di meglio. In questo video voglio spiegarti perché se vuoi superare, eliminare i tuoi conflitti interiori devi in qualche modo perdonare i tuoi genitori perché altrimenti i conflitti continueranno a esistere dentro di te. Adesso cerchiamo di capire il perché e come si possono perdonare i genitori. Allora, devi tenere presente un fatto fondamentale che i nostri conflitti interiori nascono, in realtà sono un duplicato, dei conflitti genitoriali. I conflitti genitoriali perché si manifestano? Per quale motivo si manifestano? Si manifestano per due motivi fondamentali. Perché, diciamo, il comportamento dei nostri genitori di uno fondamentalmente, perlomeno inizialmente, non è un comportamento che giudichiamo adeguato per come si comportano nei nostri confronti e generandoci rabbia fondamentalmente, rancori, sensi di colpa. Il comportamento reale del genitore sarà sempre inadeguato? Ma questo dipende. Cioè, ci sono casi in cui, ovviamente, i genitori mettono in atto oggettivamente dei comportamenti negativi, anche se talvolta invece è l'interpretazione che diamo al comportamento. Comunque, diciamo che l'esperienza è comunque di fatto soggettiva. Ci sono situazioni che sono forti, eppure dall'altra parte non c'è un trauma. Altre situazioni che invece, magari, non sembrano così nefaste, così negative, eppure generano un trauma. Questo dipende proprio dal... Dipende proprio da che cosa dipende? Dipende dal fatto che noi interpretiamo la realtà soggettivamente. Quello che alle volte per un bambino viene interpretato come un fatto estremamente negativo, per un altro non viene interpretato nel suo modo. Quindi dipende molto... Dipende molto dal... Dalla soggettività, insomma, da tanti fattori. Però, in ogni caso, il primo genitore che ci genera rabbia, rancore, ressentimenti, viene considerato genitore conflittuale. Però, anche l'altro genitore potrebbe generare poi delle situazioni negative nei nostri confronti. Potrebbe generare, ad esempio, delle situazioni legate al tradimento. Perché magari lo consideravamo il genitore buono, e poi, di fatto, in qualche modo ha tradito quelle che erano le nostre aspettative. Comunque sia, in ogni caso, noi, quasi tutti, diciamo, sviluppiamo un conflitto con i genitori. Talvolta il conflitto è fisiologico, nel senso che, diciamo, è un conflitto... Fisiologico cosa vuol dire? Vuol dire che tutti noi, in qualche modo, ce l'abbiamo, un conflitto con i genitori. Se resta, diciamo, contenuto entro certi livelli, possiamo dire entro il 30% dell'emotività totale, tutto sommato è la motivazione giusta per andare avanti, per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi il conflitto, da un certo punto di vista, è fisiologico, perché ci consente di sviluppare la giusta, diciamo, il giusto... la giusta motivazione. Se, ovviamente, sul 100% delle emozioni che possiamo vivere, questo conflitto, per un modo o per l'altro, per un verso o per l'altro, supera il 30%, allora tutto questo diventa molto più pericoloso, da un certo punto di vista. Molto più pericoloso perché? Diventa molto più pericoloso per un semplice fatto, che è rabbia che si accumula poi dentro di noi, e si rifletterà nella nostra vita. Si rifletterà nella nostra vita andando a colpire quelli che sono i nostri limiti, quelli che sono le nostre idee, le nostre aspettative. Cioè ci farà fallire lì dove, logicamente, vorremmo riuscire, perché diventerà una sorta di imprinting. E ci farà fallire nelle relazioni sentimentali, perché andremo sempre a duplicare, a cercare di duplicare queste situazioni. E allora dobbiamo imparare a superare queste situazioni, dobbiamo imparare a liberarci da questi vincoli, da questi conflitti, dobbiamo veramente imparare a liberarcene. E non è così semplice come potrebbe sembrare, perché spesso noi reputiamo di aver ricevuto dei torti dai nostri genitori e non li giustifichiamo. Dentro di noi non li giustifichiamo. Cioè, di fatto, è un po' la nostra sfera logica che non li giustifica. Perché, tutto sommato, la sfera emotiva ama comunque i genitori, sono colori che ci hanno generato. Ma talvolta ci impuntiamo da un punto di vista logico e non riusciamo a perdonare i nostri genitori. E allora questo conflitto non si scioglierà mai. È una battaglia, diciamo, anacronistica da un certo punto di vista. È come quell'unico, l'ultimo giapponese che, dopo la guerra che era finita da 30 anni, rimaneva sull'isola e continuava a combattere. Ecco, questo è un qualcosa che dobbiamo tenere in considerazione. Noi dobbiamo tenere in considerazione questi fatti, queste situazioni. Dobbiamo tenere presente che se vogliamo essere felici, dobbiamo veramente perdonare i nostri genitori. Perdonarli in che modo? Dobbiamo fare un ragionamento logico. Perché è la parte logica che è incazzata fondamentalmente. E quindi è la parte logica che deve dare lo sblocco. Perché se non dà lo sblocco, ma in profondità, ovviamente, se non dà lo sblocco non si riesce a, non si riuscirà a eliminare questa tensione. E per dare lo sblocco cosa devi fare? Beh, per dare lo sblocco devi fare una cosa molto, molto importante. Devi, per dare lo sblocco a questa situazione, devi pensare che loro si sono comportati male nei tuoi confronti, va bene. In alcuni casi anche molto male attraverso violenze. Cioè, ma non è che l'hanno fatto. L'hanno fatto perché quello era il loro limite. Hanno fatto il meglio di quello che potevano. Certo, uno dice, ma la crudeltà, la violenza non si giustifica. Beh, tu sei arrivato qua finora, sei arrivata qua finora, sei viva. Bene o male sei viva perché i tuoi genitori ti hanno consentito di vivere. Ora, vuoi dargli la soddisfazione di continuare a stare male o vuoi metterti a stare bene? Se vuoi metterti e vuoi iniziare a stare bene, l'unico modo vero è quello di far sciogliere questa rabbia che c'è dentro di te. Quindi l'unico modo vero è quello di perdonarli. È quello di perdonare i tuoi genitori. È quello di far sì che tu possa veramente, veramente perdonarli. Per donarli, beh, un modo semplice ma efficace è quello di prendere una foto, metterla davanti a te, una foto del genitore o dei genitori che credi, con i quali hai torto, hai questa rabbia, questo rancore. prendi davanti, metti davanti a te una foto e gli dici tutto quello che tiri, sfoghi la tua rabbia, gli dici tutto quello che devi dirgli, urli, gli sputi addosso alla foto, fai tutto quello che devi fare, scarichi tutta questa rabbia ma per l'ultima volta. E poi alla fine perdoni e lasci andare. Lasci andare rendendoti veramente conto del fatto che, nonostante tutto, hanno fatto quello che era il meglio delle loro possibilità. Le loro possibilità non soltanto fisiche, anche possibilità mentali. Se tu farai questo lavoro veramente, lo farai veramente in profondità, noterai un cambiamento profondo, dentro di te noterai veramente un cambiamento profondo, noterai un miglioramento drastico nella tua vita e nelle tue relazioni sentimentali che inizieranno ad andare bene, inizieranno ad avere una vitalità e una felicità diverse. Questo è l'unico modo per superare questi blocchi e questi conflitti. Se il video ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco e naturalmente ovviamente iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi, abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise mirate alle tue domande. Ciao a tutti!